Il Consiglio regionale si prepara al giro di boa della legislatura. Il prossimo 19 aprile saranno trascorsi infatti due anni e mezzo esatti dal suo insediamento, dall'elezione dell'ufficio di presidenza, dal primo confronto politico e istituzionale in aula. Nelle ultime sedute passa all'unanimità la proposta della Commissione Cultura, quella che vuole introdurre un quarto d'ora di lettura libera a scuola. La decisione finale spetta ora al Parlamento. C'è un limite di spesa per gli interventi di distrutturazione degli alloggi ERP, le case popolari insomma, solo che adesso i costi sul mercato sono lievitati. Il Consiglio regionale li adegua e così si sbloccano i cantieri fermi. Sono numerosi i bilanci degli enti e delle agenzie regionali che sono stati approvati, sono quelli di ARS, l'Agenzia di Sanità, di Toscana Promozione Turistica, dei parchi di San Rossore, delle Apuane, di IRPET. I primi argomenti discussi però hanno a che fare con temi di strettissima attualità nella nostra regione. Lo stadio di Firenze e i finanziamenti a rischio del PNRR e l'eventuale quotazione in borsa della multi-utility dei servizi. Parleremo anche di alcune manifestazioni in programma nei prossimi giorni nella nostra regione che riguardano sport, cultura, ambiente, prodotti enogastronomici e anche solidarietà e che qui a Palazzo del Pegaso trovano la loro vetrina veramente regionale. C'è una legge su cui adesso il Consiglio regionale della Toscana sollecita il Parlamento ed è quella che introdurrebbe un periodo, un quarto d'ora, 20 minuti di lettura libera da parte di ogni studente nelle nostre scuole. La proposta parte dalla Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio regionale. La prima firmataria è proprio la Presidente Cristina Giacchi ma in dettaglio cosa chiedete? Si chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera. Uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno che può offrire. Devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022 sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti. Questo ci ha fatto pensare che avendo meno distrazioni, con le condizioni di contesto adeguate un rapporto con la lettura non era in viso ai ragazzi, anzi veniva coltivato. Dicono tutti sì al voto finale così come tutti erano stati d'accordo in commissione del resto e sono dati pubblici. In Italia quasi la metà degli studenti tra i 6 e i 17 anni non ha letto nemmeno un libro al di là dei testi scolastici. È un'esperienza che già c'è stata in Italia, in Lombardia, insieme alla Norvegia. Hanno visto che leggere per 15 minuti, perché si parla di 15 minuti, per ogni mattina però, in classe, qualunque cosa, perché può essere un libro, una rivista, un fumetto, però è una lettura silenziosa che ogni alunno o alunna fa e anche l'insegnante. serve a che cosa la lettura? La lettura serve a ampliare il vocabolario, sicuramente perché oggi sappiamo anche che è molto ridotto il vocabolario dei giovani, quindi a comunicare meglio il nostro pensiero. Inoltre, secondo me, secondo anche, diciamo, chi studia queste cose, serve a sviluppare il pensiero critico. Se non è la lettura a svilupparlo, chi può essere? I lavori del Consiglio regionale si erano aperti con due argomenti molto dibattuti, soprattutto nell'area fiorentina. Il primo riguarda lo stadio Artemio Franchi, da ristrutturare, da modernare, ma davvero bisogna farlo con i soldi del PNRR. La seconda questione è quella molto più complessa, probabilmente, della multi-utility dei servizi. Che valutazione viene data e, soprattutto, deve quotarsi in borsa? La multi-utility è nata formalmente a gennaio dalla fusione per incorporazione in alia di Acqua Toscana, Consiaga e Pube Servizi. L'obiettivo è riunire sotto un'unica regia la gestione dei servizi pubblici toscani. Entro i prossimi mesi è previsto un primo aumento di capitale per oltre un miliardo di euro per permettere l'ingresso di altri azionisti pubblici. E nel 2024 sarebbe previsto l'ingresso in borsa, di cui però si sta ancora discutendo. Abbiamo chiesto al Presidente Gianni se c'era una condivisione all'interno della Giunta su questo argomento, ma anche perché alla base di questo c'è la mancanza del piano dei rifiuti. La Tari aumenta, cittadini e imprese pagano sempre più Tari. Gli impianti in Toscana non li facciamo e non li pianifichiamo, quindi esportiamo anche tantissima spazzatura al di fuori della regione e questo chiaramente ha dei costi molto alti per i cittadini. Alla base c'è questo e sulla prospettiva futura ancora una volta non c'è chiarezza da parte della Giunta. Alla sollecitazione del portavoce dell'opposizione risponde direttamente il Presidente della Giunta mostrando cautela sulla quotazione in borsa. Il fatto che si arrivi a una multi-utility toscana come principio lo vedo bene e auspico l'associarsi dei comuni. Poi se questa deve essere quotata in borsa o deve essere mantenuta dei comuni, insomma sarebbe troppo invadente come regione da parte mia, questi sono specifici rilievi sulla gestione in cui è bene che i comuni abbiano la loro autonomia di indirizzo nel momento in cui realizzano una multi-utility. Lo stesso Gianni interviene anche sui lavori per lo Stadio di Firenze e un botta in risposta con il consigliere Scaramelli. Noi siamo convinti che questi interventi debbano essere effettuati dai privati, per questo abbiamo interrogato il Presidente della Giunta per comprendere la propria opinione, per far capire che se verranno ridiscussi le risorse del PNRR è corretto e doveroso che non vengano utilizzati ulteriori soldi pubblici, si lascia spazio ai privati per fare questi interventi, le risorse pubbliche vengano invece destinate per dei settori che secondo noi hanno maggiore necessità, penso alle scuole, penso al sociale, penso ovviamente alla cultura e allo sport, ma quello sì diffuso dove tanti ragazzi e tanti giovani fanno attività sportiva non soltanto a Firenze ma anche tutta la Toscana. Quindi per noi l'esigenza era di puntualizzare questo aspetto, di esprimere il nostro punto di vista differente e soprattutto incalzare sul fatto che debba esistere una regia di carattere regionale sulla programmazione degli interventi e la Regione a nostro avviso ha il diritto e il dovere di intervenire in questa materia. È evidente che se a me venissero dati ai soldi alla Regione, mi venisse detto questo quid sono gli interventi per la Regione Toscana, io potrei scegliere la priorità e potrei dire è meglio investirli in quello o in quell'altro argomento prima che uno stadio, ma noi in realtà questo non lo possiamo fare, noi dobbiamo seguire dei canali che sono i bandi che i singoli ministeri sulla base del documento approvato il 30 aprile del 2021 dal Parlamento attivano. Tra i consiglieri di opposizione coinvolgiamo un ex calciatore, Giovanni Galli è stato un grande portiere e questo stadio lo conosce bene. Credo che potremmo trovare una soluzione completamente diversa perché lo stadio avrebbe bisogno sicuramente di essere rimesso a posto e riqualificato ma non deve perdere quella che è la sua identità di bene culturale. Un intervento su questo e lo stadio nuovo, visto che abbiamo un investitore privato che è disposto a metterci 250-300 milioni per farlo nuovo, si deve trovare un'altra area per farlo. Il provvedimento più importante è approvato dai consiglieri riguardo agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e i lavori per la loro ristrutturazione. Le nuove norme le votano tutti, in pratica si adegua il costo massimo consentito agli aumenti di questi ultimi mesi con la conseguenza che i lavori, in molti casi fermi, potranno ora ripartire. Se ne era occupata già la terza commissione, quella su sanità e politiche sociali. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori, rallentando l'adeguamento di alloggi e alber. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la Giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994. Ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il preziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo una volta all'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Dicevamo, sono tutti d'accordo i consiglieri, proprio come era accaduto già nel confronto all'interno della Commissione. Sì, siamo sostanzialmente favorevoli. Dobbiamo anche lì comunque fare delle... eccepire alcune cose in quanto in Commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. E tuttavia anche i commenti favorevoli finiscono poi per allargarsi ad altre questioni. E' da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo, come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio, sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati, alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. In Toscana abbiamo poco meno di 50.000 alloggi, di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma. Noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dando la possibilità di riscattarli. Con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi dell'edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messi a disposizione delle migliaia di toscane e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro con gli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Nella sesta commissione era stato già votato il bilancio dell'Agenzia regionale di sanità che adesso passa anche in aula, lo vota però solo la maggioranza. Ok anche ai conti dell'IRPET, l'Istituto di Statistica e di Ricerca Economica della Toscana e a quelli di Toscana Promozione Turistica alla vigilia di quella che potrebbe essere finalmente una stagione d'oro per la nostra regione. Già il 2022 era stato eccellente sotto il profilo turistico dopo la pandemia. Adesso si preannuncia una crescita superiore al resto d'Italia, oltre il 13% in più. Sia negli arrivi che nelle presenze di tutti questi temi parleremo meglio venerdì prossimo approfondendo ogni singolo bilancio di enti e agenzie. Adesso però le questioni economiche non solo dei parchi delle Apuane e di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Quello del parco di San Rossore è il bilancio del 2021. È in ritardo, è chiaro e dipende dalla riorganizzazione dell'ente e dalla carenza di personale dice la Presidente della Commissione Ambiente da cui questo bilancio è già passato. Il valore della produzione si attesta ad oltre 5 milioni, il 13,5% in più rispetto all'anno prima. La regione contribuisce con 1.154.000 euro. 1.500.000 arriva da altri soggetti pubblici e quasi 600.000 dalle attività commerciali. I costi sono di quasi 5 milioni tra acquisti di beni, quasi 110.000 euro, acquisti per i servizi oltre un milione e costi per il personale un milione e mezzo. L'utile è pari a 48.000 euro in netta diminuzione. I dipendenti del parco sono 41, 4 in meno e ci sono 9 dipendenti del segretario della Presidenza della Repubblica in comando alla regione toscana e distaccati all'ente che non rientrano però tra i costi del personale. È chiaro che il parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate. Credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno perché il parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito dai cittadini, dalle persone. Al momento del voto sono contrari alle opposizioni con motivazioni diverse. Forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della regione toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la regione toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti, delle quote da parte dei comuni che fanno parte della comunità del parco. C'è anche una sottolineatura particolare. Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, e il parco di Migliarino, Massaciuccoli e San Rossore che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica che prevedeva che il Quirinale versasse alla Regione Toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana versa al parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la Regione li trattiene anziché per San Rossore nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano. A maggioranza i consiglieri dicono sì anche al bilancio del parco delle Apoane. Le cifre qui sono più basse, 1,8 milioni il valore della produzione, però più con i contributi della Regione e altri enti pubblici aumentano lievemente i costi che arrivano a circa 1,7 milioni sul ritardo con il quale vengono discussi e approvati questi bilanci. Però sale di tono la polemica. Sicuramente la Regione Toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi. Dovrebbe veramente porci un pensiero, una attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione. O si finanziano o si cambiano le persone perché qualcosa vuol dire che non funziona. Altri tre argomenti di attualità hanno animato il confronto in questi giorni durante i lavori del Consiglio e la maggioranza ha bocciato tre mozioni, tre documenti delle opposizioni. Uno proposto da Elisa Tozzera sul centro di permanenza per gli imparri. Si chiedevano iniziative perché si realizzasse. L'altro del Consigliere Landi esprimeva una dura condanna contro i vandalismi di ultima generazione sui palazzi storici e istituzionali. Anche qui fuori, lo ricorderete, a Palazzo del Pegaso, la condanna è condivisa ma da alcuni gruppi sono arrivati segnali di apertura al dialogo sui temi che stanno dietro alla protesta. Infine sulla questione del pronto soccorso era intervenuto il Consigliere Petrucci con una propria mozione respinta anche questa. Approfondiremo questi temi tra sette giorni. Anche nella settimana che ha preceduto la festa di Pasqua, a proposito auguri a tutti i nostri telespettatori, il Consiglio regionale ha ospitato tante presentazioni di eventi e il Palazzo del Pegaso è diventato la vetrina per farne conoscere alcuni molto significativi. Gli eventi sono all'insegna della cultura, della solidarietà, del buon cibo, dei vini delle nostre terre, compreso il Vinsanto al centro della manifestazione del 15 e 16 aprile a Monte Follonico nel comune di Torrita di Siena. Vale molto il mercato del Vinsanto? È un mercato di nicchia ovviamente perché un Vinsanto serio ha un costo importante, non è come i vini si può scendere con i prezzi ma sul Vinsanto non si può scendere sotto un certo livello. Quindi è un mercato importante ma sulle quali molte case vinicole non puntano perché appunto è di nicchia. Però ci sono molti agricoltori, molti viticoltori che invece in maniera artigianale lo producono e ogni anno dimostra il fatto che sono sempre di più quelli che partecipano alla gara. Ci aspetta una grande stagione turistica giudicale dalle stime, anche grazie a iniziative come questa nel piccolo, insomma fanno comunque attrazione. Siamo pronti? Siamo prontissimi. La Toscana è pronta ad accogliere centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo. Lo fa con un modello, quello della Toscana diffusa, che fa conoscere quanta bellezza ci sia in ogni singolo territorio. Spesso i turisti arrivano nella nostra regione per le grandi città d'arte e in realtà poi conoscono, apprezzano e poi ritornano perché conoscono i nostri piccoli borghi, la proposta non solo turistica ma anche enogastronomica importante che la Toscana è in grado di offrire a tutto il mondo. La stagione del Teatro Aurora di Scandicci è stata record, 44 mila presenze. Adesso una serata speciale, il 15 aprile c'è Stenterello. Il ricavato andrà in beneficenza al progetto di Casa Marta della Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Il Teatro Aurora per Scandicci ha un grande significato. È il teatro dove lo scandiccese va per stare anche in società, per andare nella rassegna storica che è Aurora di Sera, una rassegna che il Comune fa investendo cifre importanti con Fondazione Toscana Spettacolo all'interno di questo teatro. Ma è anche appunto il teatro popolare, il teatro che mancava da tempo in città e che grazie a questo ritorno, a questa presa anche di responsabilità della Compagnia Maldestro e di Alessandro Calonacci è tornato davvero ad essere attivo. Nel giro di un anno e mezzo siamo riusciti sotto la nostra direzione a raggiungere questi obiettivi. Noi siamo felicissimi di questi risultati e ancora ci attendono mesi caldi, non solo caldi, come speriamo di clima per il clima, ma caldi perché verrà ancora usufruito del teatro Aurora perché ci saranno i mesi di maggio, di giugno con tutti gli eventi organizzati per la danza. Quindi noi siamo felicissimi, vi aspettiamo il 15 d'aprile al teatro Aurora per una festa, una festa con le associazioni del volontariato che a Scandicci è molto forte, con Stenterello alle radici del nostro teatro popolare. Nei nostri telegiornali c'è molto altro, molto di più ogni giorno sugli eventi che si svolgono qui o vengono presentati qui, come la mostra di pittura agli affreschi perduti del Pontormo, i due cantieri di San Lorenzo dell'artista fiorentino Alessandro Vannini, aperta fino al 15 aprile proprio a Palazzo del Pegaso a Firenze nel centro espositivo di Via dei Pucci. La puntata di Pasqua del Consiglio regionale non può però che concludersi con gli auguri a tutti voi del suo Presidente a nome degli altri consiglieri. Auguri, auguri a ciascuno di voi, auguri alle vostre famiglie che siano giorni di relax, proviamo a goderci qualche giorno le persone a cui vogliamo bene, è una Pasqua di vera ripartenza, una Pasqua in cui la nostra costa soprattutto sarà piena di tanti turisti che dimostriamo a tutti quanto la Toscana siano luoghi accoglienti, luoghi belli, luoghi in cui venire a passare qualche giorno di relax. Noi ci rivediamo venerdì prossimo 14 aprile sempre alle 21.10 dopo il TG della Sera. Compiamo 21 anni, l'11 aprile del 2002 andò in onda la prima puntata del nostro regionando. Da allora non ci siamo mai fermati.